ciao ragazzi stiamo continuando sul nostro challenge di fluid giorno dopo giorno ci avviciniamo proprio a quello che ci aiuta a comprendere al meglio questa tecnica per sentirci sempre più in forma e sempre anche più padroni di noi stessi la parola giusto andiamo a fare non tantissimi minuti ma andiamo a passare un po di basi un po di basi che ci aiutano a capire come farlo meglio allora innanzitutto andiamo giù in child's pose divaricando le ginocchia scendendo giù con la testa provando di portare il petto verso centro della terra respiro inspiro espiro inspiro respiro portiamo in quadrupedia e cominciamo a pensare di essere un gatto che palma per per la terra proprio che comincia a fare dei movimenti come se stessi provando di preparare sul lettino destra sinistra perché i polsi sono veramente messi sotto dura prova quando cominciamo a fare il planche downward dog e tutte le prese poi giriamo le mani verso le cosce le dite delle mani verso le cosce e piano piano cominciamo indietreggiare con i fianchi ma senza esagerare perché non dobbiamo mai mettere sotto troppo sforzo il nostro polsi perché fluid è un invito al corpo di iniziare un invito al corpo di aprirsi allungarsi potenziarsi e fare tante cose molto 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 positivi per il nostro benessere ok vi giro le mani in avanti ok porto dorso della mano contro dorso della mano e giro e secondo me lo snodo più particolare di fluid sono i polsi e 4 e 3 e 2 ed 1 ok apro le braccia e chiudo come se stessi respirando proprio espiro molte persone non respirano più inspiro apri le clavicole espiro ultima apro le mani giù portate le mani di fronte voi andiamo da un dog vuol dire tira su i fianchi e comincio a pedalare con le gambe pedalo con le gambe e spingo indietro con le braccia provando di tenere le spalle lontano delle orecchie ok colo lungo rilassato adesso sollevo su le punte dei piedi e poi provo di allungare i taloni fino a terra magari arrivano magari non arrivano tutto giusto senza giudizio qui mi porto in avanti con i fianchi e sono in planche rimango qua e proviamo di giocare un po con forze delle braccia spostandoci sulla mano sinistra e alziamoci sul polpa strelli destra poi sposto delicatamente sulla mano destra e sollevo sul polpa strelli sinistra gli abdominali sono tesi per sentire anche come l'abdomen è convolto perché siamo in una posizione di planca cambio di nuovo respirando sempre solo con il naso cambio di nuovo poi metto indietro i fianchi risolevo i fianchi e vado andando respiro adesso piego le gambe guardo in avanti tra le mani e comincio a avanzare per resistere con le mani avanzare resistendo con le mani come se stessi provando di scalare la montagna ok poi quando arrivo in avanti mi allungo le gambe lungo la schiena guardo in avanti inspiro espiro scendo inspiro salgo completamente espiro torno centrale inspiro su scendo giù completamente porto le gambe dietro di me e adesso dobbiamo scendere giù fino a terra per i miei amici nuovi appoggiate le ginocchia e scendiamo più lentamente possibile con gombi stretti gomiti stretti gomiti stretti gomiti stretti fino arrivare giù stendo le gambe braccia dietro di me e comincio a polsare in su con le braccia amare mi raccomando spalle rilassate collo lungo senti come attiva attiviamo la parte posteriore della spalla per otto per sette per sei per cinque quattro tre due lascio le braccia su gambe destra sono gambe destra 8 7 6 5 4 3 2 2 solo gambe sinistra 8 7 6 5 4 3 2 1 relax tutto giù fronte sulle mani respira porta le mani altezza del petto adesso in genocchio ok se vuoi puoi anche incrociare le le caviglie spingo su ok su abdominali sono tesi torno indietro downward looking dog porta la gamba destra su porto la gamba destra al petto ok trattieni sopra le mani per 5 e 4 3 2 se è possibile porta le gambe completamente in avanti ma la prima volta questo diventa difficile così porto il piede dove arriva poi mi aiuto con la mano per portare portarlo in avanti ok high lunge piego le gambe indietro abdominale tesi provo di sentire tutto centrale ok 90 gradi circa 90 gradi circa e qui scendo sfioro salgo estendo la gamba sinistra piego le gamba scendo inspiro stendo ancora due volta volte volte scendo salgo stendo inspiro giù respiro senti come si sta riscaldando il corpo ultima volta quattro volte su stendo le gambe le mani scendono a terra fermi qua avvicinati le gambe posteriore posteriore poco poco stendo le gambe avanti guardi di fronte a te inspiro e mentre espiri proprio di rilassare sopra la cossa mai con dolore invito al tuo corpo di aprirsi rilassati le spalle allunghi il collo ripiego le gamba mani giù a terra e andiamo a portarci le gambe indietro per tornare sul nostro plank si può scendere a ralenti con entrambi le mani diciamo con entrambi le gambe stese o piegano le gambe e scendiamo in cinque in quattro in tre in due in uno questo rallentamento c'è questo rallenti a scendere poi alle lunghe ti aiuterà proprio a diventare più forte con le braccia a risalire la prima volta e risalire difficile stendiamo le braccia in su ma mano a mano che vai avanti vedrai diventamente sempre più facile ancora quattro ancora tre pure due stai provando di attivare senza stressare non so se mi posso spiegare rimango su adesso la sinistra otto usa il gluteo sette e sei cinque quattro tre due la destra ed otto sette sei cinque cinque quattro tre due uno mani giù relax respiri recupero per poco però senti come è necessario ogni tanto di ricentrarsi rimettiti sulle ginocchia e ci ritorniamo su lontanando il pavimento da noi ok chi è già esperto di fluid può farlo con le gambe tese allungati stiamo cercando sempre i movimenti che sono soft e hard allo stesso momento ok la portiamo il piede in avanti per ognuno trova o si aiuta con la mano ok ti trovi la tua distanza giusta scendiamo uno e salgo stendo scendo giù inspiro respiro inspiro giù respiro e spiro e spiro e spiro vedi come c'è tanta roba qua mani giù piano giù portatele con le gambe indietro trattenete semplicemente la nostra planche per quattro per tre per due tornate indietro andiamo al walking dog adesso piega le gambe e facciamo due piccoli balzi in avanti 1 2 inspiro allungo più possibile sia le gambe che le spalle tiene le gambe diciamo piegate là dove è necessario espiro scendo inspiro salgo espiro torno centro inspiro salgo espiro scendo inspiro guarda in avanti espiro le mani giù piega le gambe porta le gambe indietro e genocchio giù questa volta non scendiamo a terra facciamo 1 2 3 fermi qua spingi contro il pavimento stendi le gambe e prove di staccare le cosce da terra up dog pieghe le gambe torno indietro in down dog e relax queste si chiama vignasa è una cosa che si usa tanto 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 in yoga e serie namaskar a ok che è saluto al sole due piccoli salti 1 2 lo usiamo tanto in fluid perché un riscaldamento perfetto un passaggio perfetto però sempre adesso lo facciamo puro ok stendo inspiro espiro allungo giù spingo contro i taloni inspirando portando le braccia su espiro le mani passano per centro inspiro le mani passano su espiro scendo giù completamente rilungandomi il più possibile inspiro guardo in avanti espiro e porto le gambe indietro in planche però a questo punto scendiamo e la facciamo oggi genocchia piegate o gambe dritte giù questo si chiama chataranga inspiro allontanando il pavimento da me con questa pari o cobra scusate cobra sarebbe qua ok con la pancia giù a dog e con la pancia le cosci staccate e torniamo indietro stendo i taloni dietro dito medio del piede non dovresti vedere il tallone anche se sollevato però non dovresti vedere il tallone perché deve essere allineato stai provando comunque di tenere energia tra l'interno cosce tre cipide verso i piedi bicipide verso le mani collo lungo spalle rilassate inspiro piego le gambe e faccio due balzi in avanti uno due inspiro espiro giù inspiro salgo espiro torno adesso vi faccio vedere il passaggio avanzato ma voi lo fate con una gamba alla volta il passaggio avanzato è un balzo che vado indietro arrivo con i gomiti piegati qua questo ovviamente sarà un altro giorno però questo è un passaggio perché questa oltre ad essere ovviamente una challenge è un tutorial così piano piano capirete i passi base di fluid per poi trovare sempre maggiore confidenza con questa tecnica portate le ginocchia giù per favore sedetevi indietro spalle rilassate chiudete gli occhi un attimo soltanto e respira fluid è un viaggio che spesso spaventa all'inizio perché le persone non pensano di essere in grado di farlo ma è un viaggio talmente importante perché ti vedrai quanto sei forte quanto sei potente quanto sei aperto quanto puoi fare e crescendo con fluid diventerai veramente la versione più forte di te perché è una questione più mentale è un viaggio mentale che fisico non lo farai per il fisico anche se il fisico risponderà diventerà sempre più tonico più asciutto più aperto più forte è una questione di testa ok così vi aspetto giorno dopo giorno durante questo challenge per metterci alla prova e di scoprire quanto siamo forti bacio della giro e vi aspetto domani grazie